Salve amici siamo i giocatori per caso adesso facciamo insieme una sfida velocissima ributta un pesce in acqua e se non siete ancora iscritti al nostro canale tra poco metteremo molte sorprese per cui iscrivetevi subito questa sfida è veramente veloce e allora innanzitutto andate vicino all'acqua perché dovete pescare ovviamente cercate un posto tranquillo magari lontano dei nemici perché sennò vi sparano subito appena prendete una canna da pesca appena atterrate cercate una buona canna da pesca non ha importanza al colore potete sceglierne una qualunque lo scopo non è fare miracoli solo cercare un pesce io l'ho presa ad esempio una grigia ora andate a pescare non ha importanza se trovato no al punto di pesca il pesce si trova bene o male ovunque quindi cercate insistete finché trovate un bel pesce come il mio caso ora lo raccogliete e voilà un bel lancio nell'acqua e la sfida è finita perché avete ributtato il pesce dentro l'acqua e ora coraggio tutti a pescare se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti Grazie a tutti